Ti ho mai detto qual è la definizione di cringe, sì? Cringe è... Fostare o dire... Un qualcosa che non fa ridere. Ancora e poi ancora. Sperando che poi faccia ridere. Questo è cringe. Il primo che mi ha detto questa cosa... Non so, era della generazione Z, allora boom, e ho sparato. Il fatto è... E che aveva ragione. E poi ho cominciato a vederlo ovunque guardassi, ovunque guardassi questi idioti di merda. Ovunque guardassi appostare sempre quel cazzo di cringe. Ancora, 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 ancora. Pensando, stavolta farà ridere. No, 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 dai. Stavolta farà ridere. Mi spiace. Ma non mi piace il moto... In quei posti, ok? Tu hai un cazzo di problema nella testa. Pensi che io sia un boomer? Fan culo! Ok? Fan culo! A posto, bello. Ora mi calmo. Ora mi calmo, ok? Il fatto è che... No? Il fatto è che hai già postato del cringe. E non è che io mi diverta a segnalarti. E' ok. E' soltanto acqua passata. Ti ho mai detto qual è la definizione di cringe? Oh cazzo. No, 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 no. Questo video è cringe! Non, no. Io... Alle... Io...